Siamo qua a questo palazzaccio, ma chi se lo aspettava? Dal 2005 abbiamo cominciato a unirsi in forum su internet, cittadini che vedevamo che ormai quelli che decidono per noi non pensavano agli interessi dei cittadini, ma ad altro. E allora, un po' per scherzo, un po' perché ci divertivamo, ci siamo trovati nei forum, nei meetup, ci incontravamo ai pub, ai locali, a case di qualcuno a parlare di argomenti, di energie alternative, di trasporti, miglioramento di trasporti. Piano piano ci siamo trovati qua, alcuni dei nostri li abbiamo infilati lì dentro, altri al Senato, all'altro palazzo. E ora siamo in mezzo a questa non rivoluzione, soprattutto culturale, e vogliamo mandare via tutto il vecchio e avere idee nuove, fresche. Vediamo, noi ce la mettiamo tutta, siamo qua a dare un sostegno morale ai ragazzi che abbiamo mandato dentro. E niente, aspettiamo, vediamo, vediamo come andrà avanti, io penso come è andata anche prima, nel senso che siamo partiti dal nulla, siamo arrivati qua. Vittoria! Se volete attivarvi pure voi, cittadini, a dare una mano, perché non è il voto solo quello che cerchiamo. Vogliamo cittadini attivi? Allora, unitevi pure voi, andate sul www.movimento5stelle.it, iscrivetevi, partecipate alle proposte, alle idee e diventate pure voi cittadini attivi. Grazie a tutti.